L'Associazione regionale pugliese dei tecnici e ricercatori ha voluto costruire in occasione di Agri Levante uno spazio auditorium in cui andiamo a discutere quelle notizie che ci assediano giornalmente, ovvero quelle che comunemente chiamiamo fake news o bufale. Abbiamo costruito uno spazio intitolato l'agricoltura al tempo dei social tra disinformazione e sfiducia nella scienza che è un po' un sentimento molto negativo che sta attanagliando la nostra società e che riguarda proprio la scienza, che viene sempre sfiduciata. Il parere di uno scienziato è un parere che è uguale a quello di una qualsiasi persona che con il suo smartphone si è documentato su una certa notizia e che quindi occupano spazio. Allora questo non va bene perché quando si parla di questioni che riguardano, come nel caso dell'agroalimentare, riguarda la vita delle persone bisogna parlare avendo dei dati, non parlando per sentito dire o perché me l'ha detto in vicino perché mi sono documentato sul mio smartphone. Diciamo che questo è il filo conduttore della nostra iniziativa e quindi abbiamo messo insieme un po' di temi caldi. Quello che stiamo per affrontare proprio in questi minuti è il tema della xylella fastidiosa, una grande questione che ci tocca a tutti quanti, la malattia avanzata ed avanzata grazie ai rallentamenti dovuti a queste bufale che sono venute fuori, che hanno contribuito a fermare il processo che la regione Puglia aveva messo in atto, il piano Silletti e quant'altro. E quindi questo è sotto gli occhi di tutti il danno che si è avuto perché la malattia è avanzata di un centinaio di chilometri. Detto questo abbiamo affrontato altri problemi molto caldi che riguardano il grano, la vicenda del grano, della pasta intrisa di tante fake news. Abbiamo parlato di glifosate, abbiamo parlato di OGM, ieri un bellissimo incontro sugli OGM, fantastico, perché lo scienziato, il professor Roberto De Fesa ha chiarito tanti punti. Quindi siamo passati dall'icona degli OGM, che è il cibo cosiddetto di Frankenstein, a la dimostrazione su dati certi che gli OGM ci salveranno, salveranno il nostro futuro. Quindi lo scopo è stato quello, controbilanciare questa deriva di populismo, di aspetti negativi, di sfiducia nella scienza, cercando di avere, e nel DNA della nostra associazione, nel nostro statuto, parlare di verità scientifica. E quindi lo abbiamo realizzato e devo dire un grazie ad Agrilevante che ci ha ospitato.